Questa bella foto, non è una foto così? E' un video? Sì Ciao Hola amigos Mi sto facendo conoscere qualcosa o no? Au 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 Ok, ho sto riempire su un filo in manghetta Hola amigos Siamo qui con un video Ho Abbiamo appena finito di mangiare, vedete il video che vi lasciamo qui sopra Adesso andiamo a spacchettare un po' di vestiti che ho comprato oggi sia io che Tatiana Non è giardissima la vada Magari ve li facciamo vedere anche addosso come stanno Vediamo Nel frattempo mentre parliamo Vado subito a prendere la borsa allora Prendi la borsa Ok ok Io ho comprato anche delle mutande ma non so soltanto di farvele vedere addosso Adosso no Le faccio vedere direttamente Io le per me ne basta Allora siamo andati da UIS La mia sigla Tentini Intimissimi U 있어요 E da Primark E da Pimki Si No Si Pimki Pimki Vabbè Pimki wins Si No UoChat Vabbè si Vabbè non mi ricordo Adesso tiriamo fuori tutto vediamo Ok Pimki si Foto di paventina Malissimo con la mia faccia Partiamo Da quello che vuoi Primer Un body Due mollettine Nero 50 Quelle non ve le facciamo meglio Un body Un body Color Cipri Non so come si vuol dire Color rosato Carino Con i bottoni davanti Ok Carino Con i bottoni davanti A plop Non so come si dice Sono bottoni con l'asola Sono bottoni a scherciare Costa Sì 6 euro 100% cotone O è anche un po' di elastare E' anche un po' di elastare Così è intubito Dubito se c'è un po' di elastare Pantaloncino Esatto Pantaloncino Jeans short Da OVS Con centrino attaccato Annesso Dalla di che è semplice Martiana continua a picchiarmi con i pantaloni Dalla di che è Poi Se vuoi tenerli fuori Dalla di me che li metto di qui Vabbè Un vestitino Molto semplice Questo è quello che dicevamo di Pinky Un vestitino Ciliegioso Nero Base nera Con le ciliegine di tutti colori Si ma non si capisce Non rende tanto Però su è carino Si no Visto così sembra Un vestitino così Invece no Ci sono ciliegine fucsia Rosse Arancioni E viola Tutti colori Questa fantasia nera E' carinissima Molto carina Com'è super Abbastanza leggero Si si no Su è leggerino Ok Poi Cosa c'è? Questa quanto hai pagato scusa? 20 mi sembra 19,99 20 euro E i pantaloni erano 16 Ah non mi ha detto i pantaloni Scusateci I pantaloni erano 16,95 Perciò 16 Il 3,95 la molettona E' una Un euro 50 Tutte le altre molettine Ok Adesso vediamo le mie cose Allora Mutande di intili e simili C'era il 5 più 1 Si Siamo allo sposto che c'è questa quale scelta Le mutande da uomo Nel senso Eh vabbè sono quelle che sono quelle da uomo C'erano proprio un po' C'erano Quindi fantasia Andiamo a vedere Costano tutte 15,95 Ma c'era la promo appunto Come appena detto Per quattro le paghe Io ce n'è una gratis E allora vediamo Tutto il pacchetto Tutto il pacchetto Allora abbiamo queste qui Con le anguriette Con le anguriette Un bel colino azzurro Ci sta bene Mia prima scelta Me la fate vedere la ragazza Si prendiamole subito La fate vedere io Tu non ne hai considerato Che Tatiana ne vuole La ragazza è lei Si certo Mi metta che parla davvero Si E E Poi Poi Procediamo con quelle che ho scelto In ordine di scelta Poi ho scelto Queste qui Con i serpentini E le mele Molte da Damo e Deva O sacco verde Esatto No più Damo e Deva Di sicuro Proseguiamo con Avocado Toste Gli avocado Che ho mangiato prima Io ho qualcosa con l'avocado Non mi ricordo cosa ho Boh Non so con gli avocado Non mi ricordo C'era qualcosa Pronto Mi hanno traduto tutte le taglie giuste Non ho controllato Ma penso che si Poi I conigli Si no I coniglietti Le pecorelle Con Ci petti d'erba Scusa Tieni Le domande alla fine ho detto E Per finire Siccome Dono sceglierne Una Gratis Se non Intanto vale La promozione Ho preso quella Con i coniglietti Le zampette Niente di che Il coniglietto è un po triste Un po male La metto Troppo Un po' tante Ca' spostante È mettere Sì Esatto perché tutti quelli che ho sono mezzo andato, ho comprato una caniccia e un paio di pantaloni. Allora, una caniccia è diciamo hawaiiana, ma non è proprio hawaiiana. Si è binato che potevi mettere davanti a me. Esatto. E' questa qui. È molto carica, solo sta davvero bene il fondo Max. Lo sento, quella devi mettere, amore. Giusto, ve la faccio vedere vestita, perciò. E' questa qui, questi pantaloni qui, abbastanza basic, beige. Ci stavano bene sotto. Si. E' la fine video ora. Esatto. Addio, ciao. In frattempo, se tutto è andato bene col montaggio, avrete visto che li proviamo. Altrimenti, non la finisce così. Ah, no, scusa, che cosa stiamo dicendo? Non lo so, che stiamo dicendo? Questa, l'ho pagata. Ah, che dà c'è nei bicchieri? 22,95. Da OVS, questo mi sembra. Sì, sempre OVS. Il pantalone 19,95. Tutto sommato abbastanza buono come prezzo. E niente, adesso abbiamo veramente finito il video. Cosa ha detto la borsa? No, 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 niente. Boh. E diteci se avete trovato questi capi in giro, se vi sono piaciuti, se non vi sono piaciuti, se vi fanno schifo, se li adorate, iscrivetevi al canale. Poi potremmo fare, Tatiana? Attivo la campanellina, stiamo dicendoci su Instagram. E niente, questo niente, basta. Niente. Abbandonate i vostri cari, un abbraccio forte, forte. Esatto, forte, forte. Ma non troppo forte, perché se no, lonna, poi soffoca. Ciao. No, no, devi stare già iniziando se vuoi parlare. Bene, questo è il vestitino. Guardate. E così. È molto semplice, sul manichino c'era una cintura, ma penso che vado bene anche così, senza cintura. Comunque mi piace, è carino. Tu, non ti cambi? Sì, adesso arrivo anch'io. Io mi sono ancora cambiato. Non si è ancora cambiato, lui. Mi piace? A me piace stare, è carino. Cioè, poi è giusto, non le si le agire. E' bella, leggero, qui l'estivo. E' almeno qua, più po', sopra il ginocchio. Allora, a carino. Questo invece, ragazzi, è il mio completo. Magnetta Aueana, Slim Fit. No, non è Slim Fit, ho preso la XL. E' boh, pantaloncini corti, sopra il ginocchio, ovviamente, tipo da esploratore. Mi piace. Un po' diverso dal solito, io sono sempre serioso, con vestiti scuri. E invece, stavolta, ho preso questo vestito floreale, è un po' più frizzicarello, diciamo, come direbbe Soul Mafia. Seguitilo, iscriviti sul canale, è bellissimo. Iscriviti al canale di Soul Mafia, che è bellissimo. Consiglio. Consiglio di Tatiana, ovviamente, non mio. Cioè, anche mio, perché lo seguo anch'io. Tatiana sta comando a voi, nel frattempo, tra poco arriva anche lei. Puoi avere questo? Sì, ho preso. E ho questo body molto semplice, tanto di un ciri che mi piace molto marcarlo, tipo il pizzo. E niente, non mi piace troppo, perché ho paura che scappoli tutto. Comunque mi piace, è carino. Sì, bello. E' molto estivo. Mi piace, mi riesci. Posa tutto, no? Sì. Mi hai fatto di copertino? Tanto brutto, va, fissi di copertino. Vabbè, per niente, ciao. E' finito, no? Sì, è finito. Sì, è finito.